Ragazzi e bentornati, questo è un video registrato a 1080p dal nuovo Vivo X9S Plus dalla fotocamera da 16 megapixel posteriore, vediamo come si comporta con questa macro eccola qui, spostiamoci ancora, torniamo nuovamente su questa macro, molto bene facciamo due passi così capiamo anche se la stabilizzazione funziona ma soprattutto se c'è perché giuro che non ho guardato le caratteristiche di questa fotocamera al display, non mi sembra ballare tantissimo, ovviamente dovremo vederlo anche a PC facciamo anche un bel pan qui, adesso non c'è sole, sono già quasi le 8 di sera ragazzi devo andare a cenare, ho appena finito di lavorare facciamo due passi ancora, ritorniamo qui mi sembra abbastanza buona la velocità di messa a fuoco facciamo uno zoom, questo è uno zoom 4x, lo zoom a display ragazzi arriva a 8x ma non serve praticamente a nulla è tutto un quadretto, torniamo indietro, facciamo ancora due passi e poi me ne vado a cenare ricordo che questo è un video registrato a 1080p dal nuovo Vivo X9S Plus io adesso vado a mangiare, ciao a tutti ragazzi ciao